L'operazione sembrava ormai conclusa, ma ieri sera è arrivata la doccia gelata. Nicola Sbattaiola non sarà un giocatore del Piacenza. L'annuncio è stato dato in diretta zona calcio, prima l'indiscrezione del giornalista Corrado Todeschi, poi la conferma ufficiale con la lettura da parte del conduttore Michele Rancati del post su Instagram con il quale lo stesso portiere annuncia la volontà addirittura di lasciare il calcio giocato per dedicarsi all'amata musica. Ospite in studio, il direttore sportivo del Piacenza Alessio Sesto ha confermato le voci. Il battagliola non è un giocatore del Piacenza, quindi non mi sembra giusto parlare di giocatori che non sono del Piacenza. Quello che mi sento di dire, sicuramente come l'ho detto in una precedente intervista, non mi ricordo dove, è che il Piacenza, come giusto che sia per la società che è e per come lavora, è sempre pronto, qualora ci fosse l'opportunità e la situazione ideale per migliorare e andare a mettere quel qualcosa in più all'interno della nostra rosa. Questo non significa che la nostra rosa non sia all'altezza o ci siano dei problemi, ma può essere una qualsiasi situazione che può andare ad integrarsi all'interno del nostro gruppo e ci può dare quel qualcosa in più. C'è piena fiducia in mister Maccarone, ma si chiede un immediato cambio di rotta per uscire da questo momento difficile. Riede invece il Fiorenzuola che si è risollevato con la bella vittoria ai danni del Trento. Il team manager Luca Baldrighi ha evidenziato in particolare lo spirito dei suoi giocatori. Quando si cambia tanto, a partire dalla guida tecnica, dallo staff e anche tanti giocatori, ci vuole un po' di pazienza, ci vuole equilibrio. C'era il rischio questa domenica di, incontrando una squadra forte e molto organizzata come il Trento, in battuta perché non aveva ancora perso. Sì, di fare un altro risultato con il team, invece fin dall'inizio la sproccio è stata eccezionale, ma anche la tenuta nel secondo tempo, quando abbiamo dovuto per forza di cose fare tre campi, infortuni muscolari, anche i ragazzi che sono rimasti in campo, che non sono potuti uscire, erano stremati ma hanno lottato fino alla fine, hanno tenuto botte e abbiamo avuto anche la possibilità di poter fare il terzo gol, insomma, per cui vuol dire che questa squadra sta crescendo in tutto. Nell'ultima parte del programma spazio il calcio di Lettanti con l'ultimo ospite Andrea Michelotto, attaccante del Nimbiano Valtidone, reduce dal Rocambolesco 3-3 contro il Castelfranco.